Un volo di 100 metri lungo la parete completamente ghiacciata. Una tragedia improvvisa che ha spezzato la vita di Sandro Pizzato, 57 anni, bassanese, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Marconi di Cassola. Una persona amatissima e non solo nell'ambiente della scuola, Sandro Pizzato sabato sera era salito in grappa, come era solito fare spesso, per una passeggiata sotto la luna piena. Lasciata l'auto in località Forcelletto, ha iniziato la sua escursione, dalla quale non è più rientrato. A dare l'allarme è stata la moglie Rossana, che non vedendolo tornare a tarda notte ha attivato i soccorsi. Solo ieri mattina il corpo ormai senza vita di Pizzato è stato avvistato nella zona di Malga Bocchette di Cima. Cosa sia accaduto realmente non è ancora chiaro, se a provocare la caduta sia stato un malore, una distrazione o un piede messo in fallo, e se il dirigente scolastico abbia trovato la morte all'istante o solo dopo una lente agonia, lo diranno le indagini. Sandro Pizzato lascia un ricordo indelebile in chiunque abbia avuto il piacere di incontrarlo almeno una volta. Il suo sorriso, la sua disponibilità, assieme alla sua preparazione e al suo incredibile bagaglio di competenze, l'avevano portato ad essere stimato tanto come dirigente scolastico, quanto nel suo impegno pubblico come ex presidente del consiglio di quartiere Angarano. Oltre alla moglie Rossana, Sandro Pizzato lascia tre figli e un nipote, ma soprattutto lascia un grande vuoto tra quanti lavorano da sempre per mettere la scuola al centro dell'educazione delle nuove generazioni. Sandro Pizzato lascia un'altra Sandro Pizzato lascia un'altra Sandro Pizzato lascia un'altra